eppure vedi con tutto quello che c'era da patire qui fino a quando sono stato in america credo di non aver passato un giorno senza tirare su un sospiro per i nostri luoghi il destino di un uomo è quello di affezionarsi anche alla ginestra se c'è nato a un paese che ne puoi neanche metterti giù con comodo in un prato e già ti trovi una brancata di ricci nel sedere gli ultimi anni che passai in america ogni tanto dovevo fare la notte nei night club di san francisco questo certo non l'avrei immaginato il giorno che sono arrivato là a schivare i tram le auto e le carrozze mi pareva la fine del mondo fino allora avevo visto soltanto la corriera della vizzara quelle notti in bianco dovevo farle per cortivare qualche interesse trafficavo case e terreni e guadagnavo bene e ogni tanto mi veniva in mente che a cavernio portavo le tame una giornata intera e poi mi davano due franchi che miseria pensavo con nostalgia nostro padre aveva lavorato tutta la vita mai una vacanza nemmeno il giorno delle nozze che finito di mangiare andarono insieme a rigovernare la vacca non li posso nemmeno immaginare soli nella stalla li impalati a guardarsi adesso che erano marito e moglie e poi aiutarsi timidi a mungere portar giù il fieno e stendere lo strame chissà e tutti i giorni appresso uno dopo l'altro alzarsi sempre con in mente il lavoro da fare soltanto il servizio militare aveva interrotto per nostro padre la pena di faticare il lavoro già prima di farlo e nostra madre non aveva avuto nemmeno quello un paio di volte da ragazza l'avevano portata a Locarno tutto qui e dopo tanto faticare per risparmiare il mezzo centesimo avevano ancora dovuto rassegnarsi a vederci partire per un altro mondo e lì io mi guadagnavo con una carta e una firma quello che loro non avevano messo insieme in 50 anni quale dei due mondi era il più giusto? c'era un mondo più giusto chiudevo gli occhi e pensavo voi non sapete che vengo da Roseto che sono nato a Corte Nuovo e mio padre per il battesimo mi ha portato giù e su dentro una gerla era il mio modo di sentirmi migliore di far tacere la coscienza non che fossi disonesto negli affari ma tanti denari ammucchiati a far niente da dove venivano chi me li aveva guadagnati? di solito avevo con me dei ranzeri e si erano fatti le ossa a furia di sprangare gente che preferiva non più parlare del passato ma concludere in fretta per potersi divertire naturalmente avevamo con noi delle donne così diverse dalle nostre bevevano, ballavano facevano finta di divertirsi forse si divertivano davvero io no mi annoiavo e magari perché una aveva cominciato a far la gattona e mi aveva cercato con la mano sotto il tavolo a me era venuta in mente nostra madre con quel suo fazzoletto di cotone in testa e con quel ricordo un rincrescere una noia per ciò che stavo per fare se fosse qui a vedermi mi dicevo spaventato e tornavo a guardar con gli occhi di nostra madre quello spreco di luci di bibite di fumo quelle donne quei balli dove per finire la mira era sempre la stessa e non molto alta finirla uggire tornare a casa in quei momenti mi consolava la musica ricordo un nero una volta che a suonare la tromba mi fissava e pareva gridasse proprio a me un suo rincrescere antico e uguale al mio scomparvero l'orchestra la gente i tavoli i camelieri restammo soli lui e io legati con un filo di ricordi diversi ma in qualche modo compagni la scoperta mi commosse anche più del necessario perché io e neri fino a quel momento li avevo guardati con gli occhi dei rancieri anche a Roseto dopo il rosario qualche volta cantavamo seduti davanti alla cappella cantavamo le canzoni degli alpini oppure la nostra valmaggina che era un presagio di quello che avremmo fatto più tardi e la sua invalmaggina gli è più da gavagne gli è du malm Pedro che fa sui cavagne andiamo a casa adesso comandava a un certo punto nostra madre e noi l'ubidivamo in fila indiana zitti lungo il sentiero con intorno i reali che si sentono sempre di notte a Roseto oh my friend what is the matter sospiravo tornavo in mezzo agli altri quando potevo andarmene prendevo l'auto e correvo verso la valle di Salinas o lungo la costa di Santa Cruz andavo incontro al verde delle vigne quell'aria mi puliva l'anima magari col primo sole mi straiavo sotto un albero c'era lungo la costa la locanda di un italiano che si arrotolava il grembiule per corrermi incontro veniva dalla valca Monica e stava volentieri con me perché lui discorreva della sua valle e io della mia e intanto scoprivamo quante cose avevamo uguali e quanti mestieri facevamo alla stessa maniera a star sempre qui pare che l'Italia sia un altro paese e invece a girare il mondo è facile capire che noi e loro siamo del medesimo caldaro quell'oste della valca Monica aveva cominciato a confidarsi un giorno che mi aveva sentito parlare con uno delle cento valli e la buona formaggella che facevamo in maggio sui nostri monti ah sì aveva detto dal bar a spannare un po' più alto e non scaldare troppo il latte lì per lì noi lo guardamo di traverso senza rispondergli in America uno non dovrebbe mettere la sua parola in un discorso d'altri e lui andò avanti a passare lo straccio sul banco ma dopo diventammo amici e discorremo insieme giornate intere ridevamo ci davamo grandi manate sulle spalle qualche volta ci veniva a tutti e due un magone da struttarzzù con un altro bicchiere poi sua moglie veniva a gridargli che lei le toccava far tutto allora l'uomo mi strizzava l'occhio e scompariva ma dieci minuti dopo era lì da capo moglie e voi diceva allora guardandosi in giro già sospiravo io e stavamo con la testa bassa a seguire il filo di quel pensiero ma poi quando alzavamo gli occhi a vederci l'un l'altro così minchioni scoppiavamo in una gran risata così cominciavamo a parlare delle nostre donne scontrose nelle loro vesti troppo lunghe ma per finire più desiderabili puoi mettere il gusto di lavorare mezz'ora per vedere un ginocchio di tutto parlavamo ricordo che abbiamo passato un intero pomeriggio a confrontare il modo nostro e della valca monica di cantare le messe provavamo emotivi con lunghi mugoli contenti delle somiglianze che scoprivamo un povero paese come il nostro tu non immagini quanti ricordi lasci nel cuore di chi ha dovuto abbandonarlo ti dico che in America il pensiero di casa noi emigrati lo portavamo dentro come una malattia e a sentirci vicino uno che veniva dalle nostre parti e conosceva i nostri mestieri non era lo stesso che con gli altri eravamo tutti ragazzi cresciuti senza mai aver trovato il tempo di giocare e poi ci avevano balzati là a lavorare 12 ore al giorno per 12 mesi all'anno e sarebbe stato poco non diverso da prima ad ogni modo se non avessimo avuto quel gran rincrescere da tirar dietro ti cercavamo bastava che ci guardassimo negli occhi per farci compagnia d'autunno io guardavo più spesso il calendario e sognavo i mestieri di qui allora scrivevo chiedevo del recidivo e delle castagne la risposta arrivava per Natale quando io avrei voluto sapere se la neve era già caduta e quanta nostra madre scriveva quest'anno le castagne sono poche ma è grazia di Dio e sono sane e dolci e le patate sono belle spezie quelle rosse ma però se non le hanno messe in scorpione quelle notizie mi facevano sognatore le annusavo anche i fogli della lettera per sentire se ne usciva un po' di odor di casa ad Antonio nostra madre scriveva della gente di chi nasceva sposava moriva e delle feste straordinarie e da quelle lettere si capiva che il mondo era un pochino cambiato anche qui la gente cominciava a star meglio anche nella nostra valle ma già ai nostri tempi col tribolare che facevamo l'autunno dopo tutto era una stagione cristiana piena di mestieri che davano soddisfazione tornavamo dagli Alpi e ci contavamo per le strade del paese o delle terre della Val Bavona il lavoro a confronto di quello dell'Alpe era diventato più comodo e ci piaceva tirar lungo il tempo nei boschi e nei prati del terzuolo anche perché quella era una delle poche occasioni di incontrare una ragazza sola non che facessimo poi qualche cosa di speciale detto il buongiorno parlavamo subito del tempo ogni contadino si sa che è astrologo se piove per l'ascensione tutte le vacche a borlone quando tuona di novembre chi ha due vacche una la vende se i proverbi avevano indovinato se veramente i primi giorni di marzo avevano sortito il tempo da giugno in poi se le semine avevano dato retta ai pianeti perché lo scorpione fa dolere il ventre il pesce annacqua la vergine va in fiorana con leone e col toro è un bel mettere discutevamo di questo per starci a guardare chissà il tiepido che intanto nascondevano per ogni santi i ballatoi erano stracolmi il gran turco e le cipolle appesi e per terra gerlate di castagne noci rape barbabietole fagioli zucche la nostra povera ricchezza è esposta al sole qualche volta non sarebbe bastata per la fame dell'inverno ma io qui adesso voglio soltanto dire com'era bella oggi al confronto i ballatoi sono una miseria e i fagioli la gente invece di coltivarli va alle migros a comprare le scatole portavamo le castagne al molino e il molinaro ci dava indietro la farina dolce quel buon odore entrava nei corridoi e nelle stanze impregnava i pavimenti e i soffitti gli armadi i vestiti diventava odor di casa e odor di nostro poi venivano la mazza e Natale e a gennaio con le slitte trascinavamo in paese la legna di Val Bavona noi credevamo che il mondo sarebbe sempre andato avanti con quel passo ma con quel passo stavamo fermi e per nostra disgrazia o fortuna non lo sapevamo intanto che noi accendevamo le candele di sego con i canapoli per fare economia di zolfanelli che costavano 30 centesimi al pacco altrove c'erano porti e città dove gli uomini si ammucchiavano in grattacieli noi eravamo un'isola fuori dal tempo una brancata di farina in fondo a un sacco e i forestieri dell'hotel d'uglessis di preda l'estate cominciavano già allora ad arrivare dentro in Val Bavona e persino sugli Alpi a guardarsi come fossimo stati pelle rossa ci facevano anche le foto e noi minchioni a metterci in posa con le nostre gerle sulle spalle chissà in quali case di Londra o di Colonia sono andate a finire le nostre fazze a divertire gente che ha la stufa del troppo comodo d'inverno era il tempo degli scrupoli e delle divozioni ogni santi le feste quarant'ore san Faustino don Giuseppe si strigliava l'anima con vigore l'inverno era suo e ci obbligava in chiesa a battere i denti per amor di Dio qualche volta trovavamo l'acqua santa gelata nelle pile eppure anche quelli più piccoli erano strappati dal letto ancora caldi di sonno alle sei del mattino per la messa poverini e capitava che qualcuno lo dovessero poi svegliare nella panca a funzione finita don Giuseppe senza parere controllava le assenze e preparava le lavate di capo da fare in confessionale alle madri troppo tenere neanche a farlo apposta c'erano sempre delle divozioni particolari da ottobre a maggio il calendario era a Zeppo il mese del rosario l'ottaviario dei morti la novena dell'immacolata e quella di Natale le preghiere riparatrici per il carnevale che facevano altrove la quaresima con i digiuni e le vie crucis la settimana santa il mese di San Giuseppe e quello della Madonna senza contare che c'erano novene e tridui per la propizia stagione o per qualche grazia speciale chiesta da pia persona e poi le veglie dei morti le messe di settimo e di trigesimo gli anniversari i legati qualche volta le funzioni si accumulavano e non finivano più e quando dopo l'interminabile mattutino della settimana santa detto declamato cantato in latino senza capirsi una parola Don Giuseppe cominciava a recitare il rosario io sentivo di odiarlo e penso alle donne non sposate che non avevano mai trovato il coraggio di una carezza d'uomo destinati a finire così vergini come foglie secche con le mani in orazione e che finito il lavoro dei campi e delle stalle e correre ad aiutare le sorelle sposate dovevano ancora affrettarsi in chiesa a scopare lavare lustrar candelabri e ricucire cotte e stendardi e recitare intanto il solito rosario a salvezza delle anime nostre se le funzioni erano una barba bisogna però dire che alla festa era bello cantare tutti insieme e qualche volta i ragazzi ci davano dentro come a chiamar capre tanto che Don Giuseppe gli toccava intervenire proprio sul punto dell'elevazione allora si voltava a nero e per un minuto buono stirava il suo sguardo sopra le testechine la funzione si fermava e nella chiesa nasceva un gran zitto guardato da quella sera poi Don Giuseppe tornava a girarsi verso l'altare si sentiva un brusio generale un muoversi un fiatare più libero fin fuori in fondo alle donne e la funzione riprendeva con un'altra ondata in marzo noi caprai dovevamo già risalire la valle lasciavamo in paese Don Giuseppe con la sua pesante santità ma perdevamo anche la compagnia degli altri perché in principio eravamo uno o due per terra soli in mezzo alla neve poi uno dopo l'altro i camini si mettevano a fumare la neve montava verso le cime spuntavano le viole mondavamo la rama si vestiva e per la festa di genna riente la valle era abitata al completo alla domenica però quelli che potevano tornavano in parrocchia venivamo fuori a gruppi il sabato sera o la domenica mattina avevamo tutti la gerla o la cadola in spalla a portar fuori burro formaggio ricotta capretti uccisi a portar dentro pane farina zucchero caffè anche i ragazzi caricati come muli la festa dei santi Pietro e Paolo era l'ultima per noi che dovevamo caricare l'alpe e poi il tempo si perdeva nell'estate l'estate era grande pareva non dovesse finire più guardavamo dalle creste la conca del paese come un bene perduto quando Dio voleva arrivava a Sant'Abbondio i massari salivano a corti a riprendere le vacche e poi giorno dopo giorno alla festa della Madonna di Fontanellata potevamo scendere a far vedere le nostre barbe di alpigiani allora le ragazze da marito mandavano in giro occhiate e noi ci mettevamo in crocchio a cantare era l'autunno il tempo che non si suda e non si batte i denti il tempo che anche il più povero trova sempre qualcosa da mettere in pentola ci potevamo anche divertire e queste cose a pensarle in America parevano più belle del vero tutto in America mi pareva provvisorio come il pollaio dove dormivo che a guardar su dalle lamiere del tetto vedevo le stelle anche sull'Alpe vedevo le stelle trapeo da pioda del tetto ma era tutto un'altra cosa questo era un paese intero fatto là in fretta ogni cosa imbastita a grandi punti senza amore ecco l'America era un paese senza amore un paese dove ciascuno viveva per conto suo e la gente poteva perdere la strada e andare da una casa all'altra un paese dove nessuno si affezionava ad un posto e tutti costruivano come se da un giorno all'altro avessero potuto cambiare idea di vendere o rifare o andare via ed è proprio col pensare alle nostre cascine che ho capito la differenza così povere ma fatte bene al posto giusto che a portarle quattro metri in là non è già più la stessa cosa e fatte per resistere e durare con quei grossi travi portati su uno per uno piccole sì perché l'economia sull'alpe è la prima regola ma tanto comode che se dal docigio allunghi la mano trovi il buco degli zolfanelli e il cavicchio del cappello ora trovavo una baracca a fare da chiesa e per miglia in giro una campagna piena di fango con fattorie sparse qua e là e un gran silenzio immaginavo più lontano San Francisco e Petaluma città che avevo appena intraviste e dove formicolavano negri bianchi ebrai cinesi a sbattere insieme un traffico furibondo chissà se mi ci sarei trovato meno solo pensarci ad ogni modo mi faceva paura e mi chiedevo se mai avessi imparato a camminarci dentro l'America che avevo sognato era tutta lì enorme smorta sotto la luna allora sì che pensai a cavernio le sue case strette insieme a farsi compagnia con le porte aperte fuori da una porta dentro nell'altra e trovarti sempre a casa tua la gente tua che ti conosce e ti vuole bene sentire gli odori e i suoni che hai sempre sentito guardare una madre che è finito di lavare le scodelle e si è messa a far calzetta e intanto aspettare le campane che ci avrebbero chiamati tutti insieme alla messa di mezzanotte il patire che avevamo provato non mi pareva più nulla restava soltanto il ricordo di quelle buone cose di tutti i giorni e la voglia di tornare indietro a costo di farmela tutta a piedi come un tramper pensavo e intanto la scritta cominciava a ingrandirsi e il lampione a prendere la roggela dei santi le lacrime mi caddero giù sulla giacca e sulle mani che tenevano le briglie avevo vent'anni e piangere mi faceva bene e la seguire e la seguire a questa la seguire è la seguire la seguire Grazie a tutti.